Magari non sono nati a Milano, magari ora abitano altrove, ma qui hanno vissuto e soprattutto la città l'hanno amata contribuendo alla sua ricchezza culturale. Isa Barzizza, attrice di cinema e teatro nata a Sanremo, Inge Feltrinelli, editrice, presidente della Feltrinelli di origine tedesca ma milanese d'adozione, e Johnny Dorelli, cantante, attore e intrattenitore nato a Meda ma che ora vive a Roma, sono i premiati di quest'anno. A loro la statuetta di Carlo Porta, poeta milanese, qui è dedicato il premio promosso dal circolo filologico milanese, che quest'anno compie 140 anni e sponsorizzato dalla Facco, azienda leader nei prodotti della casa. Praticamente cerchiamo di selezionare un po' il meglio, le dirò che non è facile, perché poi soprattutto andare a toccare sul personale diventa un momentino impegnativo. Però fino adesso spero che ci siamo riusciti e tutti quelli che noi abbiamo premiato e presentato siano state persone gradite a voi tutti. Ma bisogna uscire da questa crisi? Il termine è quello giusto, le nuove generazioni, ma più che nuove generazioni le nuove energie, le nuove idee, in questo mondo globalizzato il fatto di raccogliere idee per il mondo, di portare idee per il mondo e di continuare a fare investimenti. E questo è obbligatorio, se no non si va da nessuna parte. Più di mai in questo momento si deve credere nella letteratura, nella cultura vera. E questo premio Carlo Porta è una cosa molto prestigiosa, perché Carlo Porta già a 1800 era un'europea. Un premio speciale è andato all'associazione City Angels, nata per volontà di Mario Furlane, ed edita da otto anni al soccorso di chi vive per strada. A Milano siamo un centinaio di volontari, 500 in Italia, perché siamo in 17 città italiane e credo che in tutte le città ci sia bisogno di angeli, cioè di volontari di strada che vanno ad aiutare chiunque abbia bisogno, dal senza tetto al cittadino in difficoltà.